lesioni e rapina un arresto a san cataldo nostra signora dei sette dolori massiccia partecipazione di fedeli alla processione di sabato coppa nissena vince simone fagioli al secondo posto diego de gasperi al terzo francesco conticelli si sono accorti che il loro amico aveva quasi mille euro nel portafoglio e secondo l'accusa hanno pensato di accaparrarsi di quel bottino picchiandolo con una mazza incuranti non solo dell'amicizia ma anche del fatto che quei soldi la vittima li aveva ritirati in quanto pensione di accompagnamento del figlio che soffre di una serie a disabilità e adesso per questa vicenda è finito il manetto il san cataldese giovanni piazza 52 anni mentre il secondo presunto autore della rapina è ancora irreperibile entrambi sono accusati di rapina aggravata e lesioni a piazza sono stati applicati gli arresti domiciliari mentre per il secondo è stato disposto il carcere in attesa che venga rintracciato in base al racconto fornito dalla persona offesa ai carabinieri i tre si erano prima fermati a bere qualcosa in un bar di san cataldo e poi erano saliti in auto per dirigersi a canicattì nel corso del tragitto l'uomo alla guida aveva arrestato la vettura mentre percorrevano la statale 640 caltanissetta grigento all'altezza della zona di favarella dove sorgeva il bullying italia il conducente sempre secondo la ricostruzione accusatoria aveva preso dal cofano una mazza e poi sia lui che piazza avevano iniziato a colpire l'amico sferrandogli anche dei pugni a quel punto sempre secondo l'accusa piazza aveva sfilato il portafoglio alla persona offesa prendendo i 980 euro custoditi all'interno per i colpi ricevuti la vittima ha subito traumi e contusioni alla testa e anche agli arti poi i rapinatori avevano anche riaccompagnato l'uomo a san cataldo nella zona dove aveva lasciato la propria auto e questi si era subito recato alla caserma dei carabinieri per presentare denuncia un negozio di articoli di abbigliamento di via cavur è stato preso di mira da due rapinatori nella serata di domenica i quali sono entrati all'interno dell'esercizio commerciale e utilizzando una pistola hanno intimato i proprietari di origine cinese di consegnare loro l'incasso solo che i commercianti non si sono persi d'animo e hanno iniziato a chiedere aiuto uscendo anche in strada per cercare di richiamare l'attenzione dei passanti e degli abitanti della zona vista l'inattesa reazione temendo di essere beccati in flagrante i due rapinatori se la sono data a gambe nel frattempo era stato chiamato il 112 sul posto era arrivata una volante della polizia gli agenti stanno adesso indagando per rintracciare i responsabili da capire se nella zona siano presenti telecamere di sorveglianza che potrebbero avere registrato delle immagini in modo da rendere più agevole l'identificazione dei due rapinatori bloccato prima ancora che avesse inizio un rave party che era stato organizzato naturalmente in maniera abusiva nelle campagne di mazzarino il tutto grazie a un blitz dei poliziotti della squadra mobile di caltanissetta e dei colleghi del commissariato di niscemi i quali avevano scoperto l'organizzazione dell'evento grazie ai controlli continui dei social network visto che eventi abusivi di questo genere vengono messi su grazie a un continuo passaparola sul web centinaia le persone pronte ad assistere al rave che aveva come sede un'area di contrada rafforosso in prossimità della diga cimia come detto nelle campagne del territorio di mazzarino i poliziotti sono però arrivati prontamente ed hanno sorprese di identificato oltre 70 di loro che erano arrivati sul posto utilizzando camper e altri mezzi non solo siciliani tra i presenti ma anche altra gente proveniente da fuori dell'isola soprattutto da liguria e piemonte almeno altre 100 persone stavano arrivando in auto ma sono state bloccate dai poliziotti che avevano circondato la zona per evitare nuovi accessi all'area nel ruogo del rave era già stato allestito un palco con un impianto di amplificazione alimentato da gruppi elettrogeni ed erano state preparate numerose tende in tutta l'area circostante le operazioni di sgombero sono state disposte immediatamente dal questore il prefetto ha seguito costantemente l'evolversi della situazione circa 70 i poliziotti impiegati 40 della questura e 30 dei reparti mobili oltre a pattuglie numerosi militari dell'arma dei carabinieri della guardia di finanza componenti dell'unità dell'ispettorato ripartimentale delle foreste e personale dei vigili del fuoco per garantire le fasi delle operazioni di identificazione sgombero tutta l'area è stata circondata e presidiata e sono state bloccate con l'intervento della polizia stradale dei carabinieri le vie di accesso circostanti grazie anche all'allestimento di posti di controllo in tutte le strade provinciali e statali che conducevano al sito intervenuta anche la polizia stradale di palermo i poliziotti delle questure delle province limitrofe intervenuto anche un elicottero della polizia di stato del quarto reparto volo di palermo per la vigilanza aerea del luogo molti degli identificati avevano già partecipato ad altri rave party abusivi in diverse regioni del territorio nazionale lo sgombero dell'area si è svolto tranquillamente un cuore con sette piccoli pugnali e questo è il simbolo dell'associazione devoti nostra signora dei sette dolori la stessa immagine impressa nei medaglioni che portavano al collo i suoi componenti che hanno accompagnato il simulacro della madonna sabato 17 settembre durante la processione lungo la via ferdinando primo l'associazione infatti insieme alla parrocchia di san marco evangelista si occupa della festa che viene celebrata in parrocchia nuovamente dopo la pausa a causa della situazione sanitaria degli ultimi anni con un corteo seguito da numerosi fedeli sono stati due anni bloccati è stato veramente un dolore oggi finalmente riportiamo maria per le strade del nostro quartiere e speriamo che questo serva anche a scuotere un pochino la gente che ha paura e ancora non vuole uscire però noi ci stiamo provando ce la mettiamo tutta la madonna sicuramente sa cosa fare sa come richiamare i suoi figli in parrocchia e nell'amore vicendevole tra i fratelli una devozione che è cresciuta sempre più negli anni in parrocchia questa devozione è nata 16 anni fa a Siviglia e abbiamo iniziato con un gemellaggio con la real maestranza nel 2005 a Siviglia con la madonna del rosario e da lì ci siamo praticamente quelli che eravamo presente eravamo 18 ci siamo innamorate delle statue che sono in spagna perché veramente ti aprono il cuore e quindi abbiamo deciso di acquistare una statua della madonna non abbiamo chiesto niente a nessuno ci siamo autotassati e poi sono intervenuti altri soci siamo in tutto 32 soci fondatori che però poi si sono aggiunti quelli della parrocchia perché qua molti si sono iscritti nella parrocchia san marco e anche fuori parrocchia devo dire è un'associazione che come obiettivo assoltando la preghiera e la carità la preghiera la facciamo nel nostro piccolo senza tanti fronzoli diciamo nella semplicità di un rosario il venerdì pomeriggio c'è il rosario dei sette dolori e una volta al mese ci riuniamo la nostra guida spirituale padre Antonio e cerchiamo di andare avanti con la formazione spirituale perché è importante perché non è che a Catanissetta avevamo bisogno di una statua in più per pregare il nostro obiettivo era proprio stimolare la gente a crescere spiritualmente e piano 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 ci stiamo riuscendo il fiorentino Simone Fagioli ha vinto la 67esima edizione della Coppa Nissena che quest'anno celebrava il suo centenario ottenendo il miglior tempo in entrambe le scalate il 16 volte campione italiano su norma m20 fc porta a nove le sue vittorie alla gara siciliana nell'edizione del centenario alzando il trofeo Michele Tornatore consegnato dal presidente ACI Angelo Sticchi Damiani attimi di panico si sono vissuti quando una delle vetture in gara ha preso fuoco mentre percorreva il rettilineo di Sabucina il pilota è riuscito ad abbandonare rapidamente l'abitacolo evitando conseguenze gravi grazie agli equipaggiamenti ignifughi pronto l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio il mezzo è poi stato riportato nel paddo che la gara è stata sospesa per circa 20 minuti secondo sul podio il trentino della v motorsport diego de gasperi che suo sello fa 30 zite che ha rimontato caparbiamente in gara 2 assicurandosi il secondo posto tricolore assoluto dopo il titolo ed uss terzo il trapanese francesco conticelli nuovamente in posizione alta sulla nuova proto np 0 1 2 primo pilota di casa salvatore viciche che suo sella pia 21 abbissato il successo in gruppo cn della scorsa settimana ad erice all'esordio in salita il giovanissimo andrea di caro si è guadagnato il memorial luigi campione è stato secondo tra i locali ed il più giovane meglio classificato trovando intesa immediata con la nuova proto motorizzata aprilia con cui è dominato la classifica delle sport car motori moto sotto al podio prova di carattere per il ragusano franco caruso sulla nuova proto np 0 1 2 tra i primi cinque il calabrese luca ligato al volante dello sella pia 2000 sesto l'etneo luca caruso sul norma m20 fc honda seguito dal pilota di comiso samuele cassibba sul nuova proto synergy 2000 v8 combattutissimo il gruppo e 1 dove il migliore della classifica aggregata il risultato l'etneo pietro ragusa su r5 gt turbo davanti all'altro catanese rosario alessi su peggio 106 mille 6 e roberto lombardo al volante di una peggio 207 2000 in gruppo a vittoria del calabrese di rende gabri driver con la renault clio 2000 con cui si è assicurato la coppa tricolore delle due litri nella rs cup vittoria del poliziotto salernitano gianni loffredo che al volante di una peggio 308 tcr 1 ha messo in fila il locale carlo fabrizio larocca su hyundai 30 e salvatore castronovo che comunque ha chiuso al primo posto nella categoria delle aspirate in un terzetto di reno clio davanti ad antonio castronovo e dal messinese antonino torre comincia male la nuova avventura della san cataldese nel campionato di serie di girone i al valentino mazzola passa il sant'agata con una vittoria di misura in vantaggio con maltese nel primo tempo la squadra di matteo vullo non riesce a mantenere il controllo della partita subendo il gol del pari di vitale l'uno a uno galvanizza gli ospiti che cercano e trovano il gol della vittoria con calafiore un'involuzione per i verdi amaranto almeno sul piano dei risultati che arriva dopo il pesante 0 a 5 in coppa italia con il paternò sembra lontano adesso l'esaltante vittoria sul catania ai calci di rigore al debutto stagionale di coppa il 21 agosto scorso il tecnico della san cataldese matteo vullo sulla pagina facebook verde amaranto noi abbiamo secondo me fatto una buona partita quello che non ci premia il risultato noi non meritiamo di perdere questa partita dal mio punto di vista poi se qualcuno dice altro va bene lo stesso loro saranno felicissimi di averla vinta avrebbe preferito vincerla anch'io in maniera così ma purtroppo i nostri due gol reali vengono da due situazioni di un errore individuale la verità dei fatti è che noi non possiamo prendere gol a 30 secondi alla fine che sarebbe stata tutta un altro secondo tempo però poi se con i ma non si fa niente noi dobbiamo semplicemente imparare da quello che succede e migliorare adesso l'obiettivo nostro è guardare con fiducia alla partita di mercoledì prossimo a cittanova e cercare di andare lì a fare il risultato il quadro completo dei risultati a cireale cittanova 0 a 0 la mezzi a canicatì 1 a 0 trapani mariglianese 0 a 0 licata castrovillari 0 a 1 santa maria cilento locri 0 a 2 raguse a catania 0 a 2 real versa paterno 3 a 1 san luca vibonese 0 a 1 san cataldese sant'agata 1 a 2 la classifica real versa catania locri sant'agata castrovillari la mezzi e vibonese 3 a cireale cittanova trapani e mariglianese 1 san cataldese canicatì licata san luca paterno santa maria cilento e ragusa 0 la nisse in cappa nella seconda sconfitta di file in campionato e si trova ancora a quota 0 nella classifica del girone a di eccellenza un'altra domenica amara per la compagine allenata da alessandro settineri dopo il pesante 3 a 0 subito a casteldaccia stavolta è l'acragas a brindare al successo il terzo consecutivo grazie a un gol di alfonso cipolla al trentanovesimo del secondo tempo per gli acragantini una vittoria che vale il primato in condominio con lo sciacca pure a punteggio pieno vittorioso in trasferta i biancoscudati sono attualmente ultimi in compagnia di altre tre squadre ma devono ancora recuperare l'incontro casalingo con l'oratorio san ciro e giorgio di marineo in programma mercoledì prossimo i commenti a fine gara del presidente della nissa sergio iacona e dell'ex biancoscudato desiderio garufo sulla pagina facebook dell'acragas il risultato ci lascia l'amaro in bocca però devo dire che sapevamo di giocare contro una squadra sicuramente al di sopra della della nissa una squadra molto attrezzata anche per la vittoria finale che ha giustamente fatto investimenti per programmare un futuro roseo come io auguro all'acragas per me è stata una grande emozione tornare qua dopo più di 30 anni perché da ragazzo vissuto tanti invocati derby tra la nissa e l'acragas e quindi per il resto ho assistito comunque una bella partita combattuta dove sono soddisfatto del fatto che la nissa ha tenuto e oserei dire che ha perso comunque per un episodio anche se abbiamo ben coscienza di quelli che erano i valori in campo poco prima di prendere il gol sia pure in contropiede abbiamo avuto un'ottima occasione direi sprecata così come nel primo tempo c'è stato un colpo di testa pericolosissimo ma era il nostro convito questo quello di aspettare l'acragas e di stare un po' coperti perché eravamo ripeto consapevoli della superiorità tecnica dell'acragas quindi la differenza è anche un pizzico di fortuna però ci sta nel calcio assolutamente quindi tanti auguri all'acragas sì è una vittoria voluta una vittoria voluta perché queste partite poi sono riesce a sbloccarle nel primo tempo dove abbiamo fatto una grande mole di gioco non abbiamo mai concesso niente all'avversario sia nel primo e secondo tempo a volte rischia anche di perderle magari in contropiedi una palla inattiva siamo stati bravi a non concedere niente ci riconfermiamo miglior difesa e quindi diamo prestigio a questa vittoria perché le partite non saranno tutte 5 a 2 4 a 0 3 a 0 sono partite che più tempo passa più l'avversario ti studia e quindi sarà sempre più difficile per noi però abbiamo riconfermato la fame che ha questa squadra io oltre la prestazione mia che è sempre diciamo collegata a una prestazione di gruppo quindi una grande prestazione da parte di tutti di da parte di chi è entrato e questo è frutto del lavoro settimanale perché ci sono ragazzi che sono andati in tribuna che durante la settimana danno sempre il 100 per cento quindi in merito di tutti il quadro completo dei risultati risultati parmonval mazzara 1 a 2 cus palermo sciacca 0 a 2 castellammare don carlo misilmeri 0 a 5 acragas nissa 1 a 0 gela enna 1 a 3 oratorio sanciro e giorgio di marineo casteldaccia 1 a 3 profavara leon fortese 1 a 0 mazzarese resuttana 3 a 0 la classifica acragas e sciacca 9 punti don carlo ed enna 7 casteldaccia cus palermo e profavara 6 mazzarese 5 mazzara e parmonval 4 oratorio sanciro e giorgio e leon fortese 1 nissa resuttana san lorenzo e castellammare 0 intanto la lega sicula ha ufficializzato gli incontri del secondo turno di coppa italia nissa e acragas torneranno a incontrarsi presto mercoledì 28 e il 12 ottobre gara di ritorno all'esseneto di agrigento le altre partite in programma resuttana parmonval mazzarese sciacca vincente tra enna e leon fortese don carlo misilmeri comiso vincente tra modica e santa croce taormina leonzio rocca acque dolcese nuova igea palazzolo siracusa amici trevi meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di lunedì che nel complesso sarà discreta in gran parte italia però correnti freddi in arrivo dal nord europa continuano a lambiere le regioni del medio adriatico dove tornerà anche qualche locale piovasco nelle ore pomeridiane e serali ma controlliamo intanto la nuvolosità attesa sull'italia vedete questi annuvolamenti che piano piano da nord si avvicinano alle regioni del medio adriatico e poi vi segnalo un po di aria umida in arrivo anche dal mediterraneo sul versante tirrenico come precipitazioni diciamo che nel pomeriggio in serata qualche goccia di pioggia torna a interessare il medio adriatico fortunatamente però non dovremmo avere fenomeni particolarmente intensi e insistenti tutt'altro quindi in definitiva ci attendono le dine complesso bello in gran parte del paese qualche nuvola raggiunge in giornata le regioni tirreniche deboli piogge sull'alta toscana e poi dicevamo un po di variabilità tra pomeriggio e sera sul medio adriatico ma con precipitazioni non particolarmente diffuse per il resto cielo sereno temperature però di notte al primo mattino davvero contenute sotto i 15 gradi in alcune zone anche vicine ai 10 per tutti i tagli comunque se le vostre località consultate l'app gratuita di trebi meteo servizi di pubblica utilità farmacie di turno caltanissetta servizio diurno romano corso vittorio emanuele servizio notturno eufrate viale stefano candura